Grave incidente domenica pomeriggio lungo l'SP251 nel tratto che da Codisago porta alla diga del Vajont. L'allarme è scattato alle 15.20, due moto che viaggiavano in direzione opposta sono entrate in collisione, all'altezza del terzo tornante in salita. Violentissimo l'impatto, i due mezzi si sono scontrati frontalmente, almeno stando alle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine. Tre i centauri coinvolti, prontamente soccorsi dai sanitari del suo in 1918, mentre i visi del fuoco del comando provinciale di Belluno hanno messo in sicurezza i mezzi. Il più grave dei feriti è un uomo di 31 anni alla guida di una delle due motociclette, intubato sul posto e trasportato in elicottero all'ospedale Caffoncello di Treviso. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata. Serie anche le condizioni di un 24enne di Chions, Pordenone, portato in ambulanza all'ospedale di Belluno. Trasportata a San Martino anche una 39enne di Massa Carrara che viaggiava come passeggera della moto guidata dal 31enne, le cui condizioni sono giudicate di media gravità. La strada, già teatro in passato di numerosi incidenti, è rimasta chiusa al traffico per circa due ore per permettere i soccorsi e rilievi da parte delle forze dell'ordine. La primavera domenica estiva ha portato molti motociclisti sulle strade della nostra provincia. Un altro incidente con protagonista un centauro è avvenuto attorno alle 15 sul passo Jau. Una motociclista tedesca di 27 anni è rimasta ferita a causa di una caduta. La ragazza è stata portata in ospedale a Belluno con l'elicottero della Jutta Alpin per gli accertamenti e le cure necessarie. Per lei ferite di media gravità.